Esplosione nel corso della notte e danni dello sportello Bancomat dell'ufficio postale di Stornarella. Stando alle informazioni raccolte, i gnoti avrebbero utilizzato esplosivo. Sul fatto indagano i carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza. Il boato è stato avvertito indistintamente in gran parte del paese e i detriti provocati dall'esplosione sarebbero stati sbalzati anche a metri di distanza. Sul grave episodio si è espresso il sindaco di Stornarella Massimo Colia. Il nostro ufficio postale rappresenta un presidio di civiltà ed un segno di garanzia dei servizi. Dice esprimiamo a poste italiane la nostra solidarietà per questa aggressione criminale. Chiederemo a prefetto di rappresentare al governo la necessità di rafforzare gli organici delle forze di polizia. Il primo cittadino sottolinea ancora che cercherà di fare quadrato con gli altri sindaci dei cinque reali siti e chiedere un'azione congiunta al prefetto per l'aumento dell'organico.